I sogni hanno uno scopo, sapetemi. Ossini, credetemi. Hanno uno scopo ben preciso. Non c'è in carità. Per quanto siano irrealizzabili i sogni, la gente li ama. Loro non svaniscono. Finché le persone non li abbandonano. I sogni correggono i dettagli. Quedò torna non è la realtà, realtà, realtà. Quedò torna non è la realtà, realtà, realtà. Quedò torna non è la realtà. Il sogno ci s'accosta, ci tormenta, ci fa vivere e ci uccide. Il sogno ci s'accosta, ci fa vivere e ci uccide. Il sogno ci s'accosta, ci fa vivere e ci fa vivere e ci fa vivere. Il sogno ci s'accosta, ci fa vivere e ci fa vivere. E nello spazio e nel tempo di un sogno è la chiusa la nostra vita. La nostra vita. Grazie. 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 Grazie.